iniziare la settimana dopo questo tsunami che è arrivato sabato pomeriggio realmente ancora con i postumi come potete ascoltare della mia voce è davvero difficile ovviamente perdere un derby è sempre cosa brutta noi soprattutto della vecchia scuola milanista che ne abbiamo mistitanti abbiamo visto le onde nei derby tra il salire e scendere tra le vittorie le sconfitte siamo in una raccia come si dice qua in spagna in un percorso nero un tunnel che sembra non abbia una via d'uscita adesso analizzeremo anche il perché e dunque iniziamo come sempre con un bel like se ancora non l'hai fatto iscriviti ringrazio tutti coloro che nonostante sia stato un fine settimana veramente duro anche a livello animico a livello emozionale sono rimasti a differenza di altri che hanno deciso di abbandonare il canale per aver avuto una posizione che non è sicuramente di difesa nei confronti né del mister né della squadra della società ma semplicemente tanti non guardano i video fino in fondo non ascoltano le live fino in fondo e come normalmente fanno il 99 per cento delle persone guardano un titolo e da lì senza neanche vedere il video commentano in basso e infatti l'ho notato perché si vede quando uno vede un video e quando invece scrive ancora prima del tempo tante volte io mando online un video di 15 16 minuti dopo due minuti uno già mi sta scrivendo come puoi scrivere se ancora non hai visto il video e dunque iniziamo tribù rossonera tribù di gente vera buongiorno e buon lunedì 18 di settembre a tutti a tutti e bentornata e bentornato qui sul canale del marietto milanista innanzitutto ringrazio per la grande partecipazione che c'è stata in questa live straordinaria che ho fatto ieri una live molto dura dove sono andato anche bello pesante verso certe persone che tra l'altro a parte gli insulti hanno fatto anche delle minacce e toccato da vicino anche la mia vita personale che non ha niente a che vedere con youtuber e questo lo voglio mettere in chiaro una cosa è avere delle idee del calcio della politica dell'economia della società qualunque cosa della religione e una cosa è parlare di calcio e non essere d'accordo con il mio punto di vista ma ciò non implica il fatto che devi entrare nel personale nella mia vita familiare tutto quanto questo vuol dire essere delle persone veramente di basso basso livello e purtroppo nel calcio abbiamo visto che ce ne sono parecchie se andiamo a vedere stamattina i giornalacci più venduti ovviamente c'è il Corriere dello Sport di Roma che fa festa Estasimou di Bala e Lukaku musica ad artisti Roma straordinaria si diverte con i suoi assi asfalta ieri l'Empoli 7 a 0 per quanto riguarda il Napoli ci sono già dei problemi con l'aneatore Ludigarsia dopo la sconfitta 2 a 1 in casa contro la Lazio dove meritava un passivo molto maggiore anche ieri con il Genoa la squadra campione d'Italia non è riuscita a esprimere il bellissimo calcio che ha espresso nell'ultima stagione con Luciano Spalletti e i problemi cominciano a notarsi dopo un 2 a 0 iniziale del Genoa è riuscito a guantar a prendere proprio per il rotto della cuffia un pareggio davvero molto complicato contro la squadra neopromossa proprio del Grifone dall'altra parte ovviamente il tutto Juve Sport Vlaovic chiese il top sono loro gli anti Inter stanno festeggiando per questa vittoria 3 a 1 nata da un primo gol di Vlaovic dove la palla era clamorosamente uscita in fallo laterale e si è visto la palla era uscita proprio abbondantemente fuori dalla linea però è andata avanti da lì è nato il gol della Juve così come quando io ho criticato l'altro giorno il primo gol dell'Inter doppio fallo su Teo Hernandez e successivamente su Ciao ripeto non voglio che diventi un alibi perché alla fine l'Inter è sicuramente superiore ma già da diverso tempo se no non vinci 5 derby di fila 12 gol fatti e uno subito in ben 5 derby vuol dire che ovviamente in questo momento in questo anno solare l'Inter è ed è stata superiore nessuno dice questo però è anche sì vero che è stata viziata da un errore che poi ha rimosso tutti i fantasmi degli ultimi derby e ha fatto perdere delle sicurezze anche la squadra tant'è vero che subito dopo avremmo potuto capitolare per un colpo di testa non mi ricordo adesso sarà di Mkhitaryan non mi ricordo adesso l'azione e mentre la gazzetta appunto già parla di un inter Juve come sfida Scudetto riparte ai vertici uno storico duello i sette gol di Roma bla 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 però di lato mettono non è solo colpa di Pioli tattica difesa di cambi domani serve la svolta fortunatamente già c'è domani la Champions League questa sera vi aspetto ovviamente nella super live con il processo lunedì rossonero con tanti ospiti come sempre e parleremo ovviamente di questo derby cercheremo di analizzare con esperti ovviamente di quello che è successo e in vista anche di domani visto che oggi ci dovrebbe essere la conferenza stampa di Pioli per questo primo match della Champions League dunque andiamo a vedere un po che cosa vuol dire nel dettaglio la gazzetta lo sport a parte non mi piace parlare di colpe colpe io parlo di responsabilità la colpa è un concetto cristiano un concetto religioso bisogna parlare di responsabilità colpe non è che ha ucciso nessuno cioè quando mettono queste parole diventano un po pesantini cioè utilizziamo i termini corretti per dire le cose quindi responsabilità ovviamente Pioli ha le sue responsabilità però c'è anche un'altra visione una visione che secondo la gazzetta dello sport dice l'atteggiamento di alcuni giocatori del Milan soprattutto dice Teo Hernandez è mancato il gioco offensivo come tutto il reparto avanzato ha traballato troppo la difesa dove Chiaere e Ciau sono sempre stati in costante difficoltà ma si sapeva si sapeva con Lautaro e Turam cioè questi poi sulla linea avanzato giocavano troppo alti ovviamente le imbucate sono arrivate poi proprio da lì con un Calabria anche davanti al centrocampo in ogni caso un'umiliazione storica dopo il 5 a 0 con l'Atalanta il 5 a 2 in casa col Sassuolo è arrivata anche la cinquina con l'Inter è sicuramente la più violenta per noi tifosi del Milan ovviamente c'è stata una critica forte anche perché gli altri quattro derby sono stati persi chiaramente per una differenza sostanziale delle due rose un inter molto più organizzata con una rosa molto più completa a differenza del Milan ma quest'anno non ci sono alibi da questo punto di vista se non che è una squadra nuova e quindi ha bisogno soprattutto in queste partite di rendersi conto quali sono le reali potenzialità e quali sono i metodi migliori per affrontare queste partite allora quali sono stati questi errori poi di Stefano Pioli o questa sua responsabilità innanzitutto in conferenza stampa ci sono stati un paio di momenti chiave dove appunto lui parlando dei procedenti derby rispondeva che non gli interessava il passato ma solo il presente ed il futuro e se gli si chiedeva anche sulla presenza di Chiaer sulla linea di difesa non è che c'erano molte alternative visto Calulu e Tomori fuori si sarebbe comportata in modo diverso rispetto al solito lui diceva perché dovrebbe ecco probabilmente bisognava dare proprio peso a quei derby precedenti soprattutto rivedere proprio la difesa da quel punto di vista senza i due appunto Tomori e Calulu ma con Chiaer e Ciao e quest'ultimo tra l'altro punto è quello proprio nevralgico perché giocare un 2 contro 2 contro Turam contro Lautaro con le caratteristiche dei due difensori che hanno giocato che sono stati poi schierati proprio anche coi due piedi sulle linee di centrocampo quindi una linea alta praticamente faceva sì che come nel primo gol nerazzurro dove è stato Teo ovviamente spalleggiato cioè è nato da un'azione irregolare ma continuo a sostenerlo perché l'ho rivisto più volte quel gol è nato da una spallata di Danfris e poi successivamente di Turam che si è praticamente ha spinto a buttare a terra Ciao comunque al di là di questo nell'uno contro uno Ciao è stato superato quindi non voglio andare sto fallo il tedesco cade dopo aver recuperato la palla dopo secondo me una spinta però ognuno poi quando uno dice che partita vedi sai quante volte ho dovuto ascoltare dei commenti di persone che vedevano una partita invece che un'altra ognuno ha una sua visione delle cose come se tu vedi che ne so un o a sapore un piatto come dire guarda se a me piace il sushi un altro dice guarda a me il pesce non piace vabbè non capisci un cazzo provalo cioè non è una questione cioè il giudizio che si dà in ogni cosa è sempre molto soggettivo in base anche una propria esperienza personale e dunque ci sono stati questi problemi anche proprio di un Calabria lì in mezzo ha lasciato molto spazio l'Inter è rimasta ovviamente su un di Marco costantemente che bloccava Pulisic Mkhitaryan ha avuto spazio lì in mezzo di muoversi come ha voluto e proprio la posizione di Alvino Calabria ha fatto sì che si svuotasse con la fascia destra per dare spazio alle ripartenze proprio di di Marco e sulla struttura dell'Inter che non ha praticamente cambiato nulla è sempre rimasta uguale Mkhitaryan Lautaro cercava di i due schermavano Calabria mentre Turan era su Krunic e ovviamente questo vuoto lasciato dal capitano è stato invaso completamente dai giocatori dell'Inter Simone Inzaghi ha vinto tatticamente per l'ennesima volta questa partita guarda caso il 2 a 1 proprio di Turan arriva proprio da quel lato il lato destro e ancora il 3 a 1 anche di Mkhitaryan ricorda anche il secondo gol che abbiamo ricevuto proprio nella semifinale di andata di Champions League è tutto troppo facile troppo prevedibile anche da un punto di vista tattico una fase offensiva senza soluzioni e l'Inter ha dato la sensazione appunto di essere superiore anche in questo caso è bastato sistemare comunque la propria difesa come un unico blocco se visto che il Milan nel primo tempo ha fatto molto più possesso palla ma l'Inter ha schermato completamente la propria difesa con i tre difensori e i due che erano di fascia del centrocampo come Di Marco e Danfris che andavano a dar supporto quindi sembrava sempre di avere un blocco di cinque lì davanti quindi impenetrabile e è stato per il Milan andare a sbattere e abbattersi contro un muro ovviamente anche Giroud non è che ha avuto molto spazio di manovra in questo senso c'è stata quell'azione di Leao che ripartì di Teo Hernandez che è ripartito e poi ha tirato la palla è uscito fuori di poco e se torniamo al punto di partenza ovviamente Pioli inutile dirlo ha le sue responsabilità perché ovviamente se andiamo a vedere già nei quattro derby precedenti c'erano stati degli errori molto simili quindi non è bastato in questo momento in questo momento storico un Milan tutto nuovo e sicuramente con una rosa molto più ben attrezzata rispetto allo scorso anno e la speranza ovviamente che per i prossimi derby visto che per noi sono delle mazzate una dietro l'altro per noi milanisti che il derby lo viviamo come se fosse sempre una finale ma anche loro anche gli interisti una finale di Champions League comincia a diventare dura un quinto derby chiuso con la cinquina ovviamente è difficile da digerire quindi domani c'è già una ripartenza fortunatamente da una parte ma dall'altra bisogna vedere se ci sia stato o c'è un contraccolpo psicologico intanto la società ieri tanto con Furlani da una parte e Moncada dall'altra si sono fatte subito sentire nella loro vicinanza alla squadra al mister sono stati prima nello spogliatoio dopo il derby poi sono stati a Milanello ieri insieme alla squadra hanno rivisto il derby cercando di capire laddove realmente bisogna agire perché sta diventando come un incubo giocare il derby c'è un con un senso di inferiorità che si sta palesando ma soprattutto io credo a livello psicologico perché se andiamo a vedere gli undici in campo il Milan e come dicevo prima della partita noi ce la possiamo giocare contro questa inter con questo undici attuale quindi ragazzi speriamo realmente in un girare pagina subito perché il Newcastle delle tre squadre che affronteremo con Paris Saint Germain con Borussia Dortmund ovviamente è delle tre quella un attimino più abbordabile sulla carta ciò non vuol dire che è facile perché non esistono partite facili né in campionato né in champions league soprattutto in champions a livello internazionale e soprattutto arrivando dopo una sconfitta così clamorosa e così pesante sicuramente ci potrebbero essere dei cambi al posto di Pulisic che si è visto visibilmente anche stanco che arriva da 48 ore dal viaggio dagli stati uniti dal suo nazionale e come no per l'ennesima volta dico no alle nazionali durante la stagione agonistica e dovrebbe giocare al suo posto Samu Ciuqueze potrebbe anche trovare spazio addirittura Pobega nel mezzo del campo al posto di chi di Krunic al posto di Reinders fargli tirare un po' il fiato però ovviamente è una partita di champion importantissima di cercare di mettere i migliori giocatori in campo mi auguro che questa brutta esperienza che abbiamo vissuto che per noi la stiamo vivendo come qualcosa veramente di pesante veramente di pesante noi milanisti contro l'inter non che sia compromesso niente perché abbiamo perso una partita non è che stiamo abbiamo cominciato male o che cosa il Milan è iniziato alla grande questo campionato però subito dopo la sosta è arrivata questa botta c'è tempo per recuperare c'è tempo per mettere le cose al loro posto c'è tempo per anche a livello psicologico fare un lavoro di crescita soprattutto in determinate partite dove nettamente l'avversario ha dimostrato nell'ultimo anno e quindi in questo caso nel derby di essere superiore tatticamente non tecnicamente tatticamente l'inter è stata sicuramente messa meglio in campo ha meritato di vincere e ovviamente la mia reazione di pancia dopo una partita voi dovete capire una cosa tanti di voi che quando io vedo una partita la vedo in un milan club come quando uno va allo stadio a fine partita uno c'è il fuoco addosso ancora quindi l'ho detto anche nel video non non sono lucido in questo momento per fare un'analisi critica a questa partita perché ovviamente sei ancora nella trans agonistica della partita stessa ovviamente anche ieri poi ho fatto quella live più che altro dura per gli insulti però ovviamente poi quando la cosa scende e si analizzano le cose da vari punti di vista ovviamente non è che poi io sono uno stupido un fanatico che è lì con la testa contro il muro però non sono neanche uno di quelli che come ho letto in maniera anche spreggevole un'altra volta questi pioli out lo dico da tempo che non servo un cazzo è finita la gratitudine di qua di là mi spiace ma io non sono d'accordo perché un progetto che nasce con un allenatore voi non mi potete tirar fuori ogni due per tre adesso il nome di antonio conte antonio conte innanzitutto a livello umano è un uomo che a me non mi è mai piaciuto a livello di allenatori in europa non ha mai fatto nulla non ha mai vinto nulla si ha vinto campionati ma anche pioli ha vinto il campionato con il milan quindi cosa che non ha fatto per esempio simon inzaghi tanto lì magari lo vincerà quest'anno magari no però fino adesso zero titoli a differenza di un titolo di stefano pioli quindi io continuo a sostenere comunque il mister ovviamente se poi vedi veramente che con il tempo la cosa gli è sfuggita di mano non riesce a dare un input diverso rispetto a quello che abbiamo visto nell'ultimo campionato che nonostante tutto siamo arrivati in semifinale di champions league con una squadra senza praticamente panchina solo gli undici buoni in campo ovviamente lì poi si faranno le dovute valutazioni come in ogni ambito lavorativo ma in questo momento io penso che l'ultima delle cose che il milan pensi o debba fare è proprio un eventuale esonero di stefano pioli io non lo vedo poi ovviamente come tutto come l'anno scorso si trarranno delle conclusioni a fine stagione o se veramente un patatrac nella prima parte della stagione si cercherà di dar rimedio però bisogna anche vedere chi verrebbe realmente a prendere un milan e soprattutto quale allenatore verrebbe e a quali condizioni conte ha un ingaggio che almeno quattro volte tanto quello di stefano pioli e non mi sembra che ci siano tanti allenatori liberi che in questo momento possano dare quella quella spinta in più che non sta dando per esempio stefano pioli in questo momento quindi vediamo un po ragioneremo di tutto questo ovviamente questa sera in live al processo non di rosso nero io ti ringrazio come sempre per l'ascolto fino alla fine un bel like iscrizione se ancora non è fatto con campanile attiva per rimanere sempre aggiornato sull'entrata di ogni nuovo video un ringraziamento speciale agli abbonati già avete visto dei cambiamenti anche nei gruppi social è rimasto solo di tutti i social whatsapp telegram il gruppo di abbonati quindi coloro che sono abbonati al canale per partecipare sul gruppo telegram basta che mi scrivano marietto milanista chiocciola gmail.com in descrizione ci sono anche gli altri gruppi è uscito il nuovo audio ieri di saggezza popolare l'altro mio canale andatelo ascoltare perché davvero è importantissimo è intitolato a buon intenditore poche parole da lì poi dopo spiego varie cose ti auguro un felice inizio settimana un inizio settimana ovviamente come portarsi dietro un bel sacco di piombo però cerchiamo di liberarci e ritornare a volare perché la stagione è lunga siamo ancora il 18 di settembre e quindi non cominciamo a creare un clima ostile laddove non è necessario abbiamo perso una partita su quattro malamente è un derby sono d'accordo tutto quello che volete però come sempre nella vita non bisogna guardare indietro bisogna guardare avanti prendiamo spunto da tutto questo ripartiamo e sempre forza milan ovunque comunque ciao